musica salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con la nostra rubrica arcade il secondo appuntamento con South Park riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati e vabbè riprendiamo come detto da dove ci eravamo lasciati con questo appuntamento con la rubrica degli arcade arcade barra indie questa settimana come... oh ma quello non... che cazzo devo fare? dobbiamo prendere... credo il tipo non ne ho la peppa l'idea scusa eh, è che ti posso correre dietro spuntone nel soffitto ah quindi devo fare... uno spara... spara bolle da panico posso andare su... beh eeeh... ah quindi tipo faccio così bella no figli di troia ah ecco perchè ha le bolle sembra tipo il gioco che c'era in sala giochi bubble bubble lo ricordate? voi siete giovani molti di voi non hanno vissuto le sale giochi bei tempi cazzo eeeh... eheheh vabbè rip... porca la troia allora cerchiamo di spaccare un po' di culi perchè qua sinceramente vaffanculo... no 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 la riprendiamoci un cuoricino perchè siamo letteralmente morti eeeh... vai zaccate qui cosa mi dici? uso spara bolle per circondare tipo le nemici vabbè eeeh... ah possiamo anche saltare sulle bolle ma io faccio così perchè ci piace di più vabbè saltiamo sulle... no vaffanculo saltato sugli spuntone non sulle bolle inizio eeeh... devo dire qualcos'altro ma non mi ricordo ah mi raccomando andate a votare sulla pagina fuck sulla pagina facebook il ma se tipo faccio... mamma mia merda sulla pagina facebook il gioco per... che volete vedere prossima settimana per la rubrica arcade premiamo giù per strisciare perfetto zacc eeeh... tra i cinque disponibili credo saranno cinque non lo so ogni tanto potrei anche variare metterne uno in più uno in meno dipende un po' dai giochi che ho se magari... ne ho di meno ne ho di più vabbè che comunque ce ne ho ce ne sono parecchi che voglio mostrarvi credo che basteranno fino al duemila cinquanta eeeh... in realtà spero credo spero di aver riniziato anche la rubrica sul retro gaming no 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 rivoglio questa rivoglio questa eeeh... con donkey gong che l'avevamo lasciato un po' in sospeso per questo periodo come detto magari per i nuovi iscritti non lo sanno però... in questo periodo ho lasciato in sospeso parecchie cose a partire dalla rubrica sul retro gaming la rubrica eh... questa qui degli arcade e un po' di robe che avevo lasciato in sospeso per motivi... puttana troia tempistici bene morti eeeh... 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 altre rubriche voglio fare altre rubriche altri progetti che avevo in sospeso che magari ho già iniziato o sto per iniziare voglio iniziare non lo so e uno vaffanculo tra tutti vabbè questo forse già cioè no sicuramente è già iniziato credo spero quello su Metal Gear la mega serie su quello che è il videogioco senza se e senza ma eeehm... poi eeeh... poi c'erano anche altre magari per... che avevo detto parecchio tempo fa che avrei voluto fare però bisogna un po' regolarsi come... abbiamo finito? perfetto abbiamo finito il primo livello ci siamo persi un milione di robe di cose però come detto questo poi è da rifare eeeh... con gli altri personaggi se... se si ha voglia va bene va bene va bene va bene eeeh... siamo ancora qui cercando di recuperare il nostro harddisc con i salvataggi di L.A. Noire e Batman Arkham City o Arkham Origins non mi ricordo qual era il titolo che avevo detto all'inizio eeehm... vediamo come prosegue la nascita di un fulvo luclei temporali trovati 0 di 12 per accogliere una cassa una nuova arma vabbè RB si l'abbiamo scoperto ok vediamo dove ci ha sparati per arrampicarsi i premi su sulla levetta sinistra o sul tasto D quando sei vicino a una parete sulla quale è possibile arrampicarsi perfetto ah no aspetta stavo pensando ad altro per arrampicarsi i premi sulla levetta sinistra che mentre leggevo però pensavo ad altro e nello specifico pensavo al fatto che oltre ad aver tolto i sondaggi su facebook hanno messo anche un po' come youtube cioè che le le puttane delle del eeehm come cazzo si chiama un po' come youtube cioè praticamente il catroia ripidiamoceli questi ma vabbè vamo così sti cazzo uff si è un momento di estrema concentrazione questo quindi sto cercando di posso saltare sotto no non così sotto ok perfetto eeeh che praticamente scelgono loro i pre i tra virgolette i preferiti nel senso che se non lo impostate voi infatti avevo fatto un post qualche tempo fa forse lo trovate forse già lo sapete comunque in generale eeeh praticamente vi mette dei preferiti cioè io faccio 10 post come come cosa predefinita eh se io faccio 10 post nella pagina non ve li mostra tutti ma ne seleziona qualcuno a random e anche se voi avete messo il mi piace sulla pagina non ve li notifica tutti eeeh cioè sia sul tubo che su su facebook stanno puntando al fatto di eeeh non farti eeeh controllare quello che ti piace a te ma quello che piace a loro quindi eeeh ti mettono pubblicità minchiate varie e poi quello che tu segui realmente te lo eeeh non dico censurano però te lo te lo mettono quasi in secondo piano quindi eeeh dovete praticamente per vedere tutto quanto impostarlo io avevo fatto un post se se cercatelo perchè a memoria non mi ricordo come cazzo si faceva ci serve la pistolina eeeh eeeh eh no su questo non posso saltare mi serve quest'altro c'ho la capoccia bella eeeh insomma bisognava mettere delle impostazioni particolari tra sul mi piace mi sa dovete cliccare sul mi piace e lì andare in qualche impostazione vedetelo un po' nel caso richiedete me lo ve lo riscrivo da qualche parte se non lo sapete comunque spargete nel caso anche la voce perchè se no così ma non solo per me cioè io dico in generale anche io mi perdevo magari dei post di altre pagine quindi una cosa che è cristo che fa abbastanza girare i coglioni quindi in generale vi perdereste cioè i miei video importantissimi magari che ne so magari qual- cazzo no questi co- cazzo ok questi con la capoccia cosi non scusate scusate vi evito vi evito bene eeeh così come sul tubo non li mettono tutti non li fanno vedere tutti un po' sta diventando un po' una porcheria e poi io per dire facebook non ho mai usato l'ho fatto solo per per il canale perchè sennò l'avrei evitato volentieri non sono cose che a cui tengo prima che ci arriva cosa ci fragella la faccia perfetto eeeh forse così riusciamo a saltare più lontano magari magari si ma la nooo dio come cazzo no se vabbè stiamo ricalati sotto vacca puttana troia guarda cristo ecco perchè i platform non mi sono mai piaciuti vabbè sti cazzi ci sta una strada alternativa a sta cosa di merda vediamoci andando la sopra sicuramente c'era qualche cazzata quindi spero non sia la strada principale perchè mi sono rotto le balle invece scommetto che era la strada principale il video? no non possiamo tagliarlo dura troppo poco altrimenti maledizione eeeh basta avete rotti i coglioni poi settimana prossima come ho detto ci sarà un altro ooooh questi vanno più veloci questi vanno più veloci ok perfetto no c'era anche questa strada impossibile ok questo esplode perfetto non so che altri titoli ho proposto andiamoci a riprendere un po' di cuori che forse ci servono magari saltando sulla testa di minchia si ne abbiamo presi un po' più del tutto va bene va bene anche così posso saltare sulla qua non ce la faremo mai eh ho questa strana sensation mica per sfiducia che proprio da dove cazzo arriva? ok da qua perfetto attenzione dai dai grande dove dov'è? grande 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 vai no no ce n'è un altro no sto cazzo ci sta fottuti platform dai vacca troia eeeh vabbè come detto questo lo sto registrando appena di seguito all'altro quindi non ho più poi l'idea di quali siano gli altri giochi che ho proposto erano comunque quelli che avevo proposto l'altra volta a meno qualcos'altro ma che cazzo devo fare? dove devo andare? qua si ma non ce la fa non ce la fa ok e che cos'è la maledizione? rotti coglioni eh portaci vostri vai andiamo così spediti spediti come se non ci fosse un domani ok non c'è un domani noo maledizione la mia pistolina corri che magari se li tirano tra di loro stia cazzo no stia cazzo no stia cazzo scusate eh ma ma non mi fate male cioè no stia cazzo cazzo qua vabbè andiamo qua oppe la oppe la perfetto occhio a questi occhio a questi scusa ma dico io cazzo devo dire i cazzo ma giovine occhio occhio c'è un figlio di troia un'amicizia te lo dico anche tu qui sotto cazzo eh non lo so come funziona il progione? il progione può saltare sui su pareti verticali prova quando impersoni kartman bella aspetta prima salviamo che guardiamo usciamo brutta fine vai mamma mia il progione possiamo prendere il cuoricino aspetta aspetta prendiamo prima il cuoricino scusa non è per sfiducia questo? perfetto perfetto sta giù ah no ci serve magari se ok grande grande tua madre quella grande quella si chiama grande figlia di vai prendiamo l'ascensore perfetto dove andiamo a finire ok c'è un po' di fumera o sbaglio scusa giovine giovine ma ce l'ho ancora la pistola ma cazzo grande ho preso megaman no qua non possiamo andare dobbiamo scendere tac ma che cazzo vabbè scappiamo va che qua c'è un po' di fuoco che non cerca le casse di legno e rompile con i piedi di porco ok occhio che esplode occhio che esplode occhio che esplode occhio che esplode esploso perfetto ok ma stiamo calmi guarda che figlio di troia ma te lo dico proprio in amicizia non è che non lo dico peraltro comunque no no scendiamo avete rotti i coglioni no no buttiamoci qua ci stanno le quando ci stanno i palloni è buono si sostanzialmente qui è cioè infinito qua adesso escono quelli con il caschetto no fa il culo ma te e il caschetto noi non ci facciamo intimorire dal caschetto noi ti spezziamo le gengive aspetta no aspetta cazzo grande ma l'abbiamo preso che cazzo ok scendiamo scendiamo prendiamo velocità del tipo vabbè noi spezziamo le gengive che sono un po' troppi effettivamente salviamo l'importante è salvare poi ci si pensa occhio queste sono zone di platform maleditte grande ah beh che noi ormai dopo aver giocato Super Meat Boy non è che credo stiamo ancora giocando in realtà però a livello di platform siamo ah no qua ci serve quello non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo eh lo so ma noi noi non siamo lui noi dobbiamo passare qui dobbiamo cercare di non farci spappolare cosa molto probabile che oh alzati alzati occhio occhio valedizione valedizione occhio occhio orca ma che cazzo eh occhio vai grande cucciati questi che cazzo so scomento che è qualcosa che fa male ma vaffanculo almeno pialo no e dai eh che te lo devo dire ma non è morto ma che cazzo hanno rotti i maroni aspetta che passa orco maledizione che cazzo mi ha fatto rina ma la madonna dai cazzo allora facciamo una cosa veloce ah che tra l'altro questi cascano cascano attacchete attacchete dai eh perfetto riproviamo così questione di tempismo è tua madre troia oltre al tempismo eh sono due cose fondamentali per andare avanti vai sparare quello che devi sparare perfetto questo occhio attacchete l'amicizia proprio ok ok daie che ce l'abbiamo fatta perfetto l'ho fatta una parola grossa questa porta non funziona quindi andiamo andiamo su eeeh tra un po' ci salutiamo perchè non so se sono infiniti questi sono infiniti che affacca ho capito un cazzo o leggevo o morivo ho scelto di morire aspetta no no questi qua non ho già arrivato cazzo eeeh si in altro po' ci salutiamo non voglio farli troppo lunghi questi video tanto comunque abbiamo dato un'occhiata abbiamo capito un po' come funziona il gioco potenzialmente divertente e bestigliabile entrambe le cose anche no eh quindi oh pela va bene l'importante è che mamma mia eeeh non so se stavo dicendo ah vi ricordo che per votare dovete mettere mi piace uno dei miei commenti lì sulla pagina facebook ah perfetto ci salutiamo adesso allora uno dei commenti sulla pagina facebook sul post diciamo del eeeh della prossima settimana dei live arcade arcade indie quello che è comunque eeeh ho fatto il primo post i primi 5 commenti 4 o 6 dipende dalle varie volte eeeh sono il gioco in questione mettete mi piace al titolo che vorreste vedere naturalmente votatele ne sono uno perchè sennò succede un fottuto casino eeeh ci vediamo allora con la prossima settimana con il titolo che avrete votato voi per la rubrica arcade quindi mi raccomando mettete un bel mi piace anche alla pagina facebook eeeh vabbè per il resto noi commentate questo titolo se vi è piaciuto eeeh anche se non vi è piaciuto in generale commentate eeeh e ci vediamo comunque al prossimo video un saluto a tutti da questa leale eeeh eeeh